Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è, questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Il sole, forse cent'anni o duecento, è un attimo che va, forse di un attimo appena sarebbe come. Tutti vestiti di vento a inseguirci è il sole, tutti aggrappati ad un file e non sappiamo dove. Minchia, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto, casse vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto molte senza pietà a chi passava sopra cinquanta. Fossero pure cinquanta d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremurava e che si piadiva tutto il profondo ed è così tutti sudati. Abbiamo assaffuto di quei fattati, di quei ragazzi morti allazzati, settati in aria come uno strazzo, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo che se non servono per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. E siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa, qui nella gola, una che proprio non ci va giù è farla scendere una parola. Se c'è chi ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, io so che parlo col comandante ma quanto tempo dovrà passare che sta seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare che di coraggio ne abbiamo tanto ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso che poi se c'è una chiamata urgente si prende su, ci si va lo stesso e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho vent'anni credo che proprio non mi dà torto se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto e glielo dico sinceramente minchia, signor tenente.